La Puglia verso l'innovazione, la regione tacco dello stivale sempre più competitiva. Bari presso la Fiera dell'Evante e la BIAT, ovvero la Borsa Internazionale dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia. Uno o due giorni per valorizzare il potenziale delle imprese, così da trasformare prodotti e servizi in concreti opportunità sui mercati esteri. Una manifestazione questa che rientra tra le iniziative del piano Export Stud. L'innovazione non è un dato che si raggiunge una volta e poi si è soddisfatti. L'innovazione è costante. Noi siamo passati dall'essere una regione che non aveva quasi spin-off e start-up all'essere la quinta regione d'Italia e a voler competere con il mondo intero. Per farlo occorre umiltà sicuramente, ma occorre anche disponibilità al cambiamento. Importavamo la tecnologia e la compravamo. Oggi la produciamo. Sulle nanotecnologie, sulle biotecnologie, sulle smart cities si stanno costruendo ottime opportunità di giovani e di imprese che vogliono investirci. Andiamo dalla multinazionale, grande impresa come Sprivia, alle piccole e medie imprese che operano su tutto il territorio. Vogliamo che queste imprese siano in rete. Vogliamo che si sentano anche in un posto più bello della Silicon Valley, ma che abbiano quello stesso stimolo a confrontarsi con il mondo. La BIAT a questo serve, come servono altri momenti di confronto e di incoming con operatori stranieri, cioè a chiedersi cosa ho fatto io finora, è servito, qual è il risultato raggiunto, monitoriamolo, capiamo come possiamo migliorare, su quali parametri, quali stati devono essere il nostro target, quali investitori. E quindi continuiamo a lavorare. Per la prima volta in Puglia la BIAT, una vetrina di grande valore, una manifestazione di successo a Bari, numerosi infatti, le imprese e gli investitori presenti tra Brasile, Canada, Cina e Emirati Arabi Uniti, ma anche Singapore, Stati Uniti, Svezia, solo per citarne alcuni e poi tantissimi gli incontri da fare già calendarizzati. La borsa dell'innovazione e dell'alta tecnologia è il segnale chiarissimo che il nostro mezzogiorno non è solo un mezzogiorno di prodotti classici del Made in Italy, non è solo agroalimentare, vini, mobili e altro, e altro significa innovazione, biotecnologie, ICT, energia, protezione ambientale, eccetera, e questo è molto importante. Abbiamo oggi 129 aziende italiane, oltre 100 operatori provenienti da 18 paesi, 1200 incontri già preordinati ed è veramente un'attività molto importante che l'Ice insieme alla regione Puglia e le altre regioni naturalmente che fanno parte della cosiddetta convergenza stanno effettuando proprio per migliorare la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri e le imprese del nostro mezzogiorno sui mercati esteri. È veramente una delle manifestazioni più importanti. L'anno scorso a Napoli, alla conclusione dell'evento di Napoli, furono firmati numerosissimi accordi di collaborazione. Oggi abbiamo tantissime imprese straniere di altissimo livello.